A proposito di medici fuori dagli schemi, ma che porta la semiotica ad una volta, quindi il vecchio, il vecchio non come età, o Bartolo, cioè come concetto della medicina, voglio presentare il tanto piacere Bartolomeo Allegrini. Direi che una capacità di clinica e di anamnesi, come ho visto e come ho visto fare dal dottor Allegrini, l'ho visto veramente pochissime volte. Grazie Bartolo. Mi lasci qua? Ah, una presentazione in video? Beh, io più che essere emozionato, Simona, sono felice di essere qui, in mezzo a tanta gente che vibra all'unisono. Quando sono stato invitato da Giorgio per questo festeggiamento importante, ho pensato subito alle caratteristiche del self-food. self-food, avete visto prima, di basico, scusate, di basico bipolare. Poi il professor Eugenio ha parlato di capacità antiossidante e allo stesso tempo ossigena. produce energia e ci difende. E qualcuno ha usato il termine modulatore. E ho pensato che, se devo parlarvi di regolazione sistemica dell'ossigeno, non possono partire dal concetto base che regola l'universo, la legge di dualità. La legge di dualità, vedete, è la rappresentazione delle due forze contrarie che fanno girare la ruota della vita e che, con il loro apparente antagonismo, provocano il movimento dell'universo. Queste due forze, non l'ho fatta apposta, Simone, a mettere quel simbolo, vedrai. Queste due forze possono essere rappresentate con il simbolo del cerchio, con il punto nel centro. Il punto è l'uno, il centro, il creatore. Il cerchio, invece, è la creazione, la manifestazione. Questo simbolo noi lo ritroviamo a più livelli, nel corpo e nella natura. Lo ritroviamo negli occhi, attraverso l'iride e la pupilla. Nella bocca, attraverso le labbra e la lingua. Nelle mammelle. Le troviamo negli organi genitali, che, anche se i due principi sono in principio separati, è in incessante ricerca. L'essere umano insegue la sua parte mancante. Lo troviamo nella cellula, dove c'è il cerchio, la membrana. E me, questa dimenticata, e avete visto, e vedrete anche dopo con le altre relazioni, l'importanza delle stabilità delle membrane cellulari nella salute. È il nucleo. L'uovo è il tuorlo, che dà la vita. È il punto, è il tuorlo. È nel frutto, per esempio, il nocciolo. La legge di dualità è ubiquitaria, quindi rappresentata a livello di macro e micro. Le medicine orientali, la vedica, che parlava dei due nadi, Ida e Pingala. È il susumna centrale. I movimenti della medicina cinese attraverso lo yin e lo yang. La legge di morfopsicologia, di Coman, che ha diretto tutte le mie conoscenze da medico internista rispetto a quello che era la conoscenza dell'uomo, non solo nel rapporto biologico, ma soprattutto nel rapporto mente-corpo, fondamentale per poter determinare l'evoluzione giusta della specie umana. E in questo principio dominano due leggi che sono semplici, sono la legge di dilatazione e retrazione. E la dilatazione è nel cerchio, la retrazione è nel punto o nella linea. Siamo duali. Le nostre due metà del viso sono differenti. E le nostre due metà sono differenti. Sono differenti i due nostri emisferi cerebrali. Qua vi ho messo una slide con la simmetria del viso, dove la sinistra, la parte sinistra, rappresenta il passato, la madre, la passività, la dipendenza, l'infanzia, il lato femminile ricettivo, lo scudo, lo yin. Il lato, la parte destra, rappresenta il maschile, missivo, l'età adulta, rappresenta il padre e il presente e l'avvenire, la proiezione dell'essere in avanti, l'attività, la combattività, l'estroversione. Nella morfopsicologia abbiamo da un lato la legge di dilatazione e retrazione che ci permette la lettura della forma, dall'altro una legge di espansione e conservazione che invece ci legge a livello di forze, le forze di espansione e conservazione che sono determinanti nella gestione della nostra salute che oggi già stiamo compromettendo non solo con l'inserimento molto più semplice di quelle memorie di cui parlava la professoressa Lucangeli, ma soprattutto di questo nuovo network biomolecolare complesso che è l'epigenoma che sta deviando il principio vitale sin dall'inizio, determinando una disforia a livello di più livelli e portando a patologie soprattutto in età che, conoscendo solamente come spinta evolutiva il principio di espansione, si trovano di fronte invece a principi che non sono consoni rispetto a quella che è l'evoluzione. Per cui se noi continueremo a immettere messaggi distonici rispetto a quelli che sono dei principi che fanno parte del cosmo e che sono nel tutto, continueremo ad ammalarci di più. E in questa relazione, questi sono i sei principali tipi morfo-psicologici che noi affrontiamo come argomento nella scuola di alta formazione che vi invito a frequentare con tantissimi specialisti e tantissimi professionisti che vi apportano un contributo importante nella vostra crescita professionale attraverso il diramare di una rete di informazioni importanti per creare poi quelle che sono le basi per sviluppare il vostro talento e far emergere quella luce interiore che abbiamo visto qui rappresentata nei grandi relatori che mi hanno preceduto e che, diciamo, ci hanno fatto emozionare rispetto anche al loro semplice esprimersi. La semplicità era scritta nei loro occhi, anche se gli argomenti che affrontavano erano molto complessi. E noi fondamentalmente nasciamo con un principio di dualità perché abbiamo bisogno, per vivere, di energia e materia. Energia fondamentale per il sostentamento, la materia, per la crescita e la ristrutturazione cellulare. E in questo principio dominano una serie di regole dove, alla fine, ciò che è il principio prevalente è il rispetto di un ritmo che è il ritmo catabolico e anabolico. E fondamentalmente, se noi riusciamo a coordinare queste capacità, stiamo andando a rispettare fondamentalmente la biologia, che è una biologia molto più complessa di quello che pensiamo, perché quando noi parliamo di dominio rispetto a un trait metabolico, dell'equilibrio neuroendocrino e neurovegetativo, stiamo dando importanza al principio primo, che è il principio di creazione di quello che è il modello energetico che avviene in un centro neurale importante che è situato nel tronco dell'encefalo. Ma nell'ambito di quella che è la capacità metabolica di un organismo, noi dobbiamo pensare che tutto ciò che è l'espressione metabolica di un individuo viene condizionato da tantissimi fattori. Qua vedete le disponibilità alimentari, la temperatura, le necessità dell'organismo, la tendenza costituzionale, ve ne parlerò nella parte finale, tutta la parte, diciamo, di caratteristiche anche biochimiche e enzimatiche che possono condizionare quelli che sono i nostri polimorfismi. Ma noi abbiamo anche un condizionamento della disponibilità di substrati che non sono solamente vitamine, minerali, aminoacidi o cibo, ma dovete pensare a tutti i substrati emotivi perché noi siamo bioteci bernetico, quindi noi siamo energia e quindi attraverso l'energia noi trasmettiamo una serie di informazioni che se entra in simmetria rispetto a quel duale lo va a potenziare. Se invece è asimmetrico lo va a deviare, va a determinare una incompatibilità rispetto a una logica biologica che parte da un principio semplice. Perché in primisi il sistema umano si forma attraverso questo, attraverso un'organizzazione delle strutture primarie che, diciamo, sono importanti, sono il cervello rettiliano, sono i nuclei di regolazione neurovegetativa che si sviluppano in primis nell'organismo e già è insita in loro la regola del ritmo. Questi sono i principali centri neurovegetativi, i vari regolatori di vari ritmi. dovete pensare che è una grossa struttura, che è l'ipotalamo, permette di rispettare e supportare la ritmicità del tronco e l'ipotalamo è un sistema complesso, una sorta di software, ma diciamo anche di console dell'organismo, dove attraverso proprio le caratteristiche dell'ipotalamo di coordinare la ritmicità quando noi perdiamo quella capacità. Sapete qual è una patologia moderna che esprime una incapacità a coordinare questa ritmicità? Che è dotata di una grande spinta ipotalamica che scordina il rapporto con le strutture vicine, che sono importanti perché si chiamano ghiandola pineale, si chiamano sistema limbico diencefalico, dove abbiamo due grandi centri che sono l'amigdala e l'ippocampo, che regolano le memorie, il ritmo biologico e tutta la gestione delle emozioni. La fibromialgia è una di quelle malattie in cui perdendosi la connessione con questo grande centro di regolazione c'è un'incapacità nel ritrovare il principio di dualità in integrità e quindi l'organismo è incapace a rispondere a molte cure che sono ben date, ben somministrate, con un giusto orientamento, ma i pazienti fibromialgici sono pazienti difficili da guarire. Quindi noi non dobbiamo aspettare, come diceva la professoressa Lucangeli, che ci ammaliamo sempre di più, che ci ammaliamo sempre più gravemente. Dobbiamo cercare di rispettare l'idoneità con cui il nostro organismo è nato e rispetto a quello che è il biologico portare in integrità i due sistemi. E lo possiamo fare a più livelli perché la regolazione dell'energia avviene a più livelli. Possiamo andare a lavorare su questo sistema, sul sistema limbico, ma non possiamo lavorare solo sul sistema limbico, perché dobbiamo poi rispettare il biologos. E quindi il biologos non è solo gestire l'aspetto emozioni. Come faceva a vedere ieri Giuseppe Napoli, ha fatto vedere una patologia grave, in cui tu hai detto che non possiamo lavorare solo sull'aspetto, dobbiamo lavorare sulla circolarità. Se non facciamo lo stesso errore delle medicine, io quando sono uscito dalla medicina interna, avevo una visione lineare, non tanto lineare, però ero già un po' deviato. Poi l'incontro con grandi maestri mi ha deviato ancora di più, per fortuna. Sono un deviato sano. Grazie a Dio. E nelle regolazioni, oltre che rispetto dell'ipotalamo, che va sempre visto, il mio grande maestro di Costituzioni, il professor Ivo Bianchi, parlava già, nell'ambito delle Costituzioni omeopatiche, di attività iper- o ipo-ipotalamica. Parliamo di 30 anni fa. Oggi non si parla proprio di ipotalamo, mentre tutte le grandi regolazioni vanno da lì. E poi la ritmicità del mesenchima. Il mesenchima, che non è un sistema statico, è un sistema dinamico, non lo vedete, è statico. Ed è governato da leggi di flusso importanti, che sono, peraltro, collegate ad assi di regolazione fondamentali, come l'asse HPA, ma anche con la regolazione di tipo estaminico, che è esplosa nell'epoca post-Covid. Io ho visitato istami energici, iper-istami energici, durante il post-Covid, molto di più rispetto ai miei 23 anni precedenti di attività. Come mai? Siamo andati a sconquassare il connettivo attraverso l'introduzione di una stasi, ne parlava prima la professoressa Lucangeli, di una stasi energetica, che sta portando a soffrire uno dei più grandi nervi che abbiamo di regolazione, che si chiama nervo vago. E sta portando a quello che io chiamavo esaurimento neurovegetativo, già vent'anni fa, quando studiavo la medicina funzionale col professor Pandiani, e mi prendevano per pazzo. Che cos'è un esaurimento neurovegetativo? E oggi vedete che la maggior parte dei pazienti che è in infiammazione cronica, ha esaurito la capacità di autoregolazione, che è quella più profonda, perché rispetta il principio della dualità da cui noi siamo nati. E poi, quando parliamo di dualità, dovete pensare che quando c'è uno scontro, lo scontro va o in una direzione o nell'altra. E quindi l'organismo, nella sua bilancia omeostatica, ha bisogno di supporto, sia nella fase di protezione, è come una squadra di calcio. Io posso organizzare un grosso attacco, ma se ho una difesa scarsa, come quella del Milan, non c'è Guido Marini, quindi scusate, ma se ho una difesa scarsa, posso avere tutti gli attaccanti buoni che voglio, ma devo anche difendermi. E quindi rispettare sempre la biologia duale che vede negli assi di regolazione fondamentali questo aspetto dominante in cui possiamo dividere ogni individuo in simpatico tonico e parasimpatico tonico, vagotonico in relazione, vedete, nel simpatico tonico ha un'iperfunzione relativa di tiroide e medulla surenarica. Bartolo, due minuti. Nel vagotonico osserviamo invece iperfunzione di cortico-surrene e paratiroide. Capite perché oggi, per esempio molti, sono in iperparatiroidismo compensatorio, che poi corrisponde all'ossigenazione, alla carenza ossigenativa, all'acidosi, ma siamo lì, stiamo parlando di micro e macro. Gli ormoni tiroidei lo insegnavano nelle scuole per le caratteristiche morfogenetiche degli ormoni tiroidei, degli ormoni surenarici, di tutte quelle che sono, no? Le grandi strutture che il grande Hans Lee ha studiato 40 anni fa nello studio Ciratti vincendo il Nobel per la teoria di sindrome di adattamento generale allo stress. E infine la soluzione. Il costituzionalismo miopatico, che noi insegniamo anche nella scuola di alta formazione, il costituzionalismo miopatico in chiave moderna, ci permette di trovare una soluzione. E la soluzione è un dono che io faccio a Sir Food. La soluzione sta nel rispetto di un adeguato bilanciamento di tutte queste regolazioni, ma in particolar modo quelle che interessano a noi visto che oggi stiamo festeggiando questo grande prodotto sono le tre regolazioni che vi ho segnato in rosso. La regolazione ossigenoide, lo stato ossidativo e l'equilibrio al citobase. Siccome le costituzioni umane nascono dai tre foglietti embrionali, il foglietto ectodermico, quello che dà origine a pelle al sistema nervoso centrale, caratterizza la costituzione fosforica che è più simpaticotonica. la gestione della morfogenesi attraverso il foglietto embronale interno caratterizza questo tipo di costituzione, la carbonica, l'endoderma, il parasimpaticotonico. Tutte e due hanno problemi con l'ossigeno. la costituzione sulfurica è la costituzione che nasce in sé con la linearità dello zolfo che è tra i minerali e questo l'hanno studiato gli americani nella regolazione dello stress è l'unico minerale modulante perché abbiamo minerali sedativi come il rame come il bromo come il magnesio come il calcio abbiamo minerali eccitativi come il sodio lo zinco il selenio il manganese lo zolfo nelle sue caratteristiche è un minerale equilibrante e quindi siccome il sulfurico è quello che utilizza più nella sua vita l'ossigeno perché nasce dal foglietto embronale intermedio il mesoderma che dà origine soprattutto a cuore grossi vasi connettivo sul rene immaginate quindi la centralità del cuore nella gestione dei cervelli cervello cranico cervello di pancia cervello di cuore io vi lascio con una riflessione e se usassimo bene il linguaggio del cuore che è fatto da sette sci da sette co l'ho detto ieri no? ripetiamo coscienza consapevolezza coerenza coesione condivisione collaborazione complicità probabilmente rispetteremmo molto di più l'integrità del nostro duale grazie a tutti per l'ascolto grazie 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 grazie